Buonasera, benvenuti al TG Nord, giornata politica molto intensa e convulsa per la fiducia al governo Letta in entrambe le camere del Parlamento. Questa mattina si è iniziato in Senato con il colpo di scena della fiducia concessa dal PDL personalmente da Silvio Berlusconi. In mattinata abbiamo avvicinato il Presidente della Regione Lombardia, il Segretario federale della Lega Nord Roberto Maroni, il quale ha annunciato il voto contrario della Lega Nord al governo di Enrico Letta. Sì, ho ascoltato l'intervento del Presidente Letta, non mi pare abbia detto cose significative dal nostro punto di vista che possano farci cambiare idea rispetto al voto contrario dato al suo insediamento. Confermeremo il voto contrario. Cosa ne pensa di quello che sta succedendo all'interno del PDL? Grazie, no comment.